L'Alta Irpini avrà la sua università. Apre a Teora, comune capofila, il polo formativo di eccellenza voluto dalla provincia in collaborazione con Unitelma, La Sapienza e ATB Consulting. Al termine del triennio di studi i ragazzi conseguiranno la laurea triennale in economia aziendale con indirizzo turistico. Le lezioni si terranno anche presso altri istituti Alta Irpini che si trovano a Lioni, Bisaccia, Sant'Angelo dei Lombardi, Nusco. La partecipazione è gratuita, previste infatti 30 borse di studio per giovani diplomati con età compresa tra i 18 e i 25 anni. Ci si può iscrivere sia sul portale della provincia che su quello del comune di Teora. Per Stefano Farina si realizza un sogno. Non solo noi immaginiamo di poter far usufruire di questa possibilità ragazzi che non siano solo delle nostre zone, ma è anche bene dire che noi abbiamo tutto ciò che concerne la possibilità di accoglierli nella maniera migliore possibile. Abbiamo un ostello 40 posti, ciò significa una comunità che si apre a raccogliere i giovani, una comunità che immagina che un giorno potrà dire di aver dato una possibilità. La provincia ha scelto bene, ha immaginato che la buona formazione possa aiutare ad entrare nel mondo del lavoro. C'è stata una grande sinergia dal comune di Teora e la provincia di Avellino. Credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Al sindaco non sfugge però che finito il primo triennio il corso di laurea potrebbe chiudere per mancanza di fondi. È un rischio che c'è ma è un rischio che io non voglio correre perché farò di tutto che questo seme che è nato per la lungimiranza della provincia e per la collaborazione del comune di Teora e dei comuni al Tirpini possa avere una prospettiva e possa avere un futuro. Tra l'altro non ci deve sfuggire che non si farà solo formazione aziendale, di economia aziendale ma che impareranno le lingue, che impareranno a fare la pizza, che impareranno a cucinare. Quindi come dire una formazione che li mette nel mondo del lavoro. Oggi grazie alla provincia siamo partiti e io dico in maniera molto umile anche ai sogni di un piccolo sindaco di una piccola comunità.